Ferazzoli è stato un derby molto combattuto, voi avete approfittato nel primo tempo, nel finale di questo pallone vagante con il vostro attaccante principe, decimo gol per lui. Nella ripresa potevate sicuramente soffrire, tra virgolette, un po' di meno, insomma va bene così, tre punti che vi tengono in scia, tutte e quattro avete vinto lì davanti. Ma tutte e sei, perché c'è anche Senigallia e Roma City e questo sta a testimoniare la bellezza di questo girone di quest'anno e le difficoltà di quest'anno per cercare di arrivare primo. Noi oggi sappiamo che era una partita difficile, perché io in settimana l'ho detto ai ragazzi, partiamo dal presupposto che il Chiedi è una squadra forte, quella che noi abbiamo incontrato all'andata, corposa, che ha giocatori importanti. E' chiaro che adesso è in un momento di difficoltà, però i giocatori importanti ci sono e la squadra è forte. Noi abbiamo fatto bene, secondo me. L'unica cosa, come dicevi tu, è se abbiamo l'abilità di chiuderla prima, non soffriamo così alla fine. Fortunatamente Cultrare ha fatto una parata eccezionale su Forgione e probabilmente è quella l'unica grossa occasione. Noi dovevamo sfruttare meglio quello che ci è capitato, però sono tre punti molto importanti. Frazzoli, col segno di poi, quei due punti lasciati a Riccione, dove meritavate sicuramente la vittoria? Perché metti il dito nella... Con Riccione non l'abbiamo lasciato noi. Al di là di tutto non l'abbiamo lasciato noi, però bisogna andare avanti, bisogna cercare, perché l'ho detto, io senza falsa epocresia, a Matesi abbiamo raccolto più di quello che meritavamo, anche se è stato scaltro il nostro attaccante. Domenica ci sono stati altri due punti, però non sono questi discorsi. A me oggi è piaciuta la personalità della squadra, in alcuni momenti non mi è piaciuto il fatto che buttiamo troppo il pallone quando si potrebbe giocare, però ripeto, oggi prestazione importante in un campo importante, molto difficile. Ad un certo punto nella ripresa ha cambiato completamente il fronte d'attacco, perché? Perché Mamadou ha avuto un crampo e Fabrizio Roberti, quando comincia a rallentare, lui ha dei problemi e polpacci che possono dargli fastidio. Siccome stavamo soffrendo non riuscivamo più a dare la pressione giusta e i tre davanti, visto che i tre davanti poco ha cambiato, sono De Silvestre, Ortolini e Angelilli, quindi sono giocatori importanti, non è che sono da meno di quelli che hanno giocato al primo tempo. E questo è grazie alla società che mi permette di poter fare questi cambi senza accusare grosse pressioni. Il campo basso è davvero irraggiungibile, o ci credete? Ma vedi, oggi noi siamo rientrati nello spogliatoio, spogliatoio avendo fatto il nostro, poi se gli altri vincono, ribadisco, sono tutte forti le squadre. Sicuramente ancora non è finito niente, la San Benettese che è più vicina ha più speranze dell'Aquila o nostre, di quelle che possono avere per raggiungere il primo posto, però io dico che ancora ci stanno i scontri diretti, ci stanno tante partite e quindi bisogna cercare di fare il massimo dei punti, cercare di arrivare più in alto possibile e poi vediamo. Ci tengo a precisare che finora il nostro è un buonissimo campionato perché non siamo mai scesi sotto il quarto posto, ripeto, contro delle squadre che sono molto, molto forti. L'ultima, qui all'Angelini, un centinaio di tifosi al seguito, bene così, no? Sì, ma questo è un altro motivo di contentezza perché ultimamente in trasferta non avevamo offerto buone prestazioni e ottimi risultati perché l'ottima è solo la vittoria, abbiamo pareggiato a Senigalli, a Fossombrone, però non avevamo fatto prestazioni bellissime. Oggi credo che abbiamo regalato una gioia ai tifosi e una gioia al Presidente perché il Presidente ci viene in particolarmente e ripeto, è un campionato affascinante, bellissimo e molto, molto difficile.